E oggi peperoni ripieni di tonno, cotti al forno, super filanti e super gustosi. Puliti i peperoni dei filamenti interni e dei semi, lavateli bene e poi tagliateli in quattro parti. Versate un filo d'olio in una pirofila e taggiate i peperoni. Tagliate poi il formaggio o la mozzarella a cubetti. Eliminate l'olio in eccesso dal tonno, versatelo in una ciotola, unite la mozzarella, le olive, i capperi. Aggiungete un pizzico di sale e del pane grattugiato, mescolate bene fino ad ottenere un composto bello compatto. Riempite ora ogni parte del peperone con il ripieno di tonno. Aggiungete ora un pizzico di sale, un goccio d'olio, e infornate a forno già caldo, 180 gradi per 20 minuti. Quando saranno cotti, sfornateli e serviteli ben caldi.